Sicuramente è un incontro delicato, come dicevi tu, contro una formazione che ha gli stessi i nostri punti in classifica. Pesaro, oltretutto, è un campo difficile, ha cambiato allenatore in settimana, quindi avranno motivazioni ulteriori, ma le nostre sono altrettanto importanti. In questa settimana, come hanno detto oggi i coach Galbiati e Comazzi, si è cercato di dare unione ulteriore alla squadra, toccando i tasti giusti anche dal punto di vista mentale. Ottimi allenamenti, grande intensità, sarà proprio su questo tema dell'intensità che si giocheranno molti dei punti, molte delle azioni che saranno determinanti domenica alle 12 a Pesaro.